ok siamo pronti per questa diretta anche oggi pomeriggio vediamo aspettiamo un momento che ci sono tutti quanti collegati controlliamo un attimo anche sulla nostra pagina Facebook eccola qui pare che incomincia a esserci scusate un attimino eccolo qua eccolo qua eccolo qua è pronto Giacomo Casaioli il nostro ospite di questa sera ciao Giacomo benvenuto buonasera buonasera a tutti ciao ciao che piacere averti allora cantine d'Italia oggi iniziamo la settimana con questa eh rubrica tanto amata che piace a tantissimi appassionati del buon vino eh aspettiamo ancora qualche minuto che eh arrivano altre altri appassionati altri nostri amici come vi ricordo eh sempre eh mettete mi piace condividete i nostri video ma comunque questo video lo troverete già da domani sul nostro canale Instagram e sul nostro canale associazione sommelier a tavola con bacco di YouTube oltre che la condivisione che già stiamo facendo sui vari gruppi di appassionati e anche sulle nostre pagine e gruppi dell' associazione. Come stai Giacomo? Bene bene grazie tu come stai? Bene bene molto sempre molto presente ecco già incomincia a collegarsi qualcuno meno male perché eh oggi la giornata è anche bella è vero che non si può uscire ma insomma la giornata è molto bella quindi porta a ad andare un attimino fuori. Ok vediamo un po' io già ho il tuo vino qui eh è già pronto eh anch'io ok allora eccoci qui andiamo avanti ancora con eh le nostre condivisioni ok eccoci andiamo andiamo va benissimo allora azienda agricola Casaioli giusto? Esatto. Bene da come come nasce l'azienda agricola? Ah nasce negli anni settanta con mio padre e mio nonno c'erano anche gli zii la nostra azienda prevalentemente ha un allevamento di chianina poi abbiamo circa circa tre ettari siamo arrivati a 65 capi attualmente io e mio padre siamo e abbiamo lì in circa tre ettari e mezzo di vigneto dove negli anni novantasette mio padre e mio nonno impiantarono i primi vitigni autoctoni che sono il grechetto e il gamè poi andando avanti con gli anni eh Chardonnay, San Giovese, Merlot. Ecco il gamè è scusa che ti interrompo. Sì. Il gamè è un vitigno che è è simile a quello francese, è diverso cioè perché il Trasimeno è tipico per il gamè no? Cioè è un territorio che praticamente il gamè viene benissimo il vino da gamè. Esatto. Sì. Quindi questa è stata l'idea perché il vostro vino di punta è proprio il Fontinius che è quello che andiamo a degustare. Assolutamente sì, è il nostro sì. La prima annata è nata 2017 con una prova che fu fatta nel 2016 che siamo rimasti entusiasti e abbiamo fatto la prima annata 2017 un IGT poi progressivamente quella 2018 abbiamo fatto doc. Ho capito. Sì. Allora mi stavi parlando dell'azienda Don Tehrrotto perdonami. Quanto eh da quanti anni esiste questa azienda? I primi anni anni settanta insomma. Poi quando io ho finito le superiori la scuola mi sono buttato dentro l'azienda agraria e nel 2014 abbiamo fatto la prima vinificazione. Prima portavamo le uve in cantina sociale e poi da siccome mi piaceva sempre produrre i nostri prodotti mettere in commercio con la prima annata 2014 abbiamo fatto le prime bottiglie insomma. Ho capito. Vinificato imbottigliato. Quindi come cantina nasce più tardi insomma dell'azienda agricola. Sì come cantina vinificazione delle uve 2014. Ho capito. Senti il vostro mercato eh a chi si rivolge soprattutto? Chi sono i vostri clienti? Piccola parte estera e se no qui di intorno perché all'inizio è giusto far conoscere il proprio prodotto qui nelle zone nella zona Umbra magari piano piano espandersi e poi portare anche il prodotto alla fine anche all'estero. Non facciamo grandi numeri piccole produzioni. Siamo sulle diecimila annue. Quindi diecimila bottiglie è proprio una un'azienda piccolina insomma. Sì 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 sì. Potenzialmente possiamo arrivare sulle trentamila bottiglie. Però ancora diciamo state sulle diecimila c'è ancora. Sulle diecimila esatto sì. Ho capito. Senti io vorrei eh vedere insieme a te eh comunque poi lo commentiamo insieme casomai eh il tuo sito perché ci stanno praticamente i quattro vini quindi magari io te li chiamo e e tu ce li puoi descrivere. Va bene se sei d'accordo. Sì sì. Ok. Allora un attimino che andiamo sul eh sito eh il tuo sito internet. Eccolo qui. Sì. E andiamo su vini e vigneti. Aspettiamo un attimo che si carica. Ok. Eccolo qua. Vini e vigneti. Vediamo un attimino che togliamo il resto. Eccolo qui. Va bene. C'era esattamente un clean. Ecco qua. I nostri vitigni quindi diciamo che qui c'è il Fontinius ma io andrei ecco qui sui vostri vini perché mi c'era che qui c'erano le le bottiglie de. Sì è un po' in manutenzione. Stiamo facendo il sito e-commerce per vendere anche online. Ah ecco perché ancora la vendita online non ce l'avete giustamente perché mi hai detto che è tutto vicino. Esatto. Ok io partirei dal Collicelli Umbria IGT. Sì. Il Collicelli Umbria è un blend un 50% san giovese e 50 merlot. Fa una vinificazione. Allora innanzitutto la vendermi è tutta manuale. Andiamo a quella che vinifica una raccolta manuale, selezione dei grappoli specialmente poi quando parliamo di bianchi spiego bianchi. Per il rosso attualmente il Collicelli è un blend san giovese merlot 50 50. Vinificazione in acciaio e per il merlot in base anche all'annata fa sempre acciaio ma una parte circa un 25% di merlot fa quattro cinque mesi di barrique per dargli un po' di legno insomma. È una barrique è una barrique nuova di secondo passaggio? Sono di secondo passaggio sì anche perché in merlot fa quattro ripeto quattro cinque mesi di barrique quindi non è molto usata. Ho capito. Affinamento poi in bottiglia quant'è? Bah siamo sui tre o quattro mesi. Tre o quattro mesi ovviamente in bottiglia quindi questa qui l'ultima annata che è? Che anno è questa? L'annata è la 2020 che deve uscire ancora. Deve ancora uscire quindi in commercio ancora sicuramente la 2019. Verrà imbottigliato la 2020 adesso a luglio che poi uscirà quest'inverno. Ho capito. Ecco che abbinamenti consigliate oltre alla cacciagione e i salumi quelli tipici Umbria. Beh anche a formaggi diciamo eh. Anche a formaggi. Ho capito. È un eh insomma è un vino questo qui a cui tenete oltre immagino. Eh senti poi il della Villa Umbria IGT. A proposito perché Collicelli? Allora ti spiego tutti i nomi Collicelli perché lo abbiamo chiamato è la via dove sono tutti i vitigni. Abbiamo dedicato questo nome. Poi c'è il Pelagalla perché a Fontignano ci sono varie fonti storiche d'acqua e corsi d'acqua che è il Pelagalla e il Della Villa. Ah. E per il Fontinius perché in latino Fontinius è Fontignano. Ah già voi state a Fontignano. Abbiamo dedicato. Sì. Ah ecco Fontinius e Fontignano. Ho capito. Quindi allora Della Villa hai detto che è in corso d'acqua? Lo so capito male? Sì esatto. Sì è una fonte di acqua. Sia il Della Villa che il Pelagalla. E allora parliamo del Della Villa che vedo che è Chardonnay come dicevi tu il vitigno. Allora. E Viognier 40. Prima annate è Chardonnay era in purezza. Poi quest'anno scorso, l'anno precedente, l'anno precedente, noi abbiamo fatto un 60% Chardonnay e un 40% di Viognier. Ah ecco. Esatto sì. Per dargli un po' più profumi. Quindi il Viognier, diciamo la struttura, l'ossatura è data dallo Chardonnay. Dallo Chardonnay, esatto. E il Viognier vi dà maggiore acidità e maggiori. Esatto sì. Maggiore profumo praticamente al vino. Qui c'è una fermentazione lenta con temperature, con una temperatura controllata. Ho capito. Non c'è ovviamente macerazione col buccio e niente. No. Niente. E' tutta quanta macerazione in bianco. Diciamo che vedendo io sto vedendo anche i prezzi. Questi qui sono in cantina. Questi prezzi sì sono in cantina. Ho capito. Quindi sette euro, otto euro. Insomma sono prezzi ottimi. Diciamo che questa linea qua della Villa l'abbiamo puntata per un vino più aperitivo che si presta sempre anche per i pesci, per i miei piatti però essendo più produttato per un aperitivo ci sta molto bene. Infatti io stavo vedendo che questo qui per esempio è dodici gradi e mezzo. Esatto. Mentre il precedente era già un bel quattordici e mezzo se non erro. Ma non mi vuoi sbagliare. Mi sembra che era quattordici e mezzo. Poi abbiamo il Pela Galla. Perché si. È il nostro diciamo tra i due bianchi vino più di punta perché è autoctono e vi richiamo anche una vinificazione più importante. È un grechetto cento per cento e i terreni sono orientati a sud est. È un terreno argilloso per sia per il gamè per il grechetto mentre per il Merlò e San Giovese è un terreno con la struttura dove ci sono anche i sassi. Ho capito. Scheletrica insomma. Ho capito. Questo è più profumato del precedente? Grechetto diciamo che nel 2019 sono usciti più profumi rispetto al 2018. Quindi nonostante che il grechetto non è un vino molto profumato. Comunque è stata una bella stagione il 2019. Sì 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 molto. È una stagione bella insomma. Questa stagione qui come si promette? Come promette il 2020? Che ti dico? Sta andando bene anche quest'anno. No il 2021 parlo quella precedente cioè quella appena finita cioè quelli che dovevano uscire i vini. No no beh l'abbiamo assaggiato e adesso andremo a imbottigliare il nuovo grechetto 2020 ai primi di aprile. Quest'anno faremo anche i bag in box vino sfuso. Ecco. Com'è questa decisione? È perché da già da prima ma siccome siamo in azienda di mio padre io mi dedico per quanto riguarda i vini essendo solo anche magari per le vendite incominciamo piano piano a fare le cose. Ho capito. Quindi diciamo che è una scelta commerciale anche perché è richiesto. Il bag in box è uno di quei vini. Sì abbiamo visto che ce lo chiedono un parecchio. Ecco infatti molti lo chiedono. Localmente poi è un mercato che localmente va parecchio del bag in box. Esatto. È pratico e comunque sia se il vino viene consumato anche abbastanza presto perché il bag in box serve a quello insomma avere un vino disponibile sempre è sicuramente un'ottima scelta insomma quindi sì è valido. Senti poi io verrei a questo punto invece al vostro vino di punta che è il Fontinius. Esatto. Eccolo qui. Gamè cento per cento. Io ho avuto modo di assaggiarlo e tra l'altro è inserito nella nostra guida l'abbinamento del vino al cibo e l'abbiamo inserito l'abbinato con il tegamaccio che è uno dei nostri piatti umbri più più strutturati più forti insomma quindi abbiamo pensato che nonostante molti sul pesce mettono il bianco il Fontinius per due motivi sicuramente era ottimo. Uno perché il il piatto richiede un vino importante insomma strutturato. Esatto. E un altro perché poi è di lago il tegamaccio e quindi di conseguenza un vino di gamè del Trasimeno, dei colli del Trasimeno poteva starci sicuramente bene. Te mai confermato che effettivamente la scelta è stata giusta? Sì sì poi ho fatto anche l'abbinamento, ho preso un tegamaccio e un bel bicchiere di gamè. Ecco e quindi è valido. Quindi parlaci un attimo di questo Fontinius. Allora questo Fontinius come ti già ti ho detto nasce con il primo esperimento nel 2016 con i nostri enologi sia Roberto che Mauriglio e Chioccia. Sì. Salutiamo. Siamo rimasti molti entusiasti e abbiamo deciso di fare la prima uscita con la 2017. Eh una in IGT. Poi al 2018 sempre DOC. Eh e niente la vinificazione è sempre quella classica del rosso. La macerazione post fermentazione alcolica varia in base all'annata. Che senso. E l'affinamento poi rende questo unico. L'affinamento è quello che rende insomma complesso e avviene in una parte 50 per cento diciamo di barrique e l'altra restante in tonno. Ho capito. Abbiamo deciso come questa prima annata poi che adesso finisce la 2019 sia barrique che tonno perché un tipo di legno rilascia profumi e un tipo di un altro una struttura diversa. E adesso vedremo se continuare con queste due strade diverse o se fare un unico tonno. Qua questo in base. Beh adesso questi sono esperimenti anche perché è un vino abbastanza giovane poi alla fine questo no? Esatto sì. Quindi dovete fare delle esperienze insomma per questo. Sì. Io a questo punto passerei a parte che eccolo qua. Io passerei all'assaggio perché ce l'ho qui davanti insomma quindi mi pare valido assaggiarlo. Ok? Tu ce l'hai il vino davanti? Io c'ho la bottiglia del vino. Ecco tanto per. Quindi eccolo qui. Tu c'hai la bottiglia del vino? Ecco facciamola vedere. Sì. Eccolo qua. Anche bella etichetta. La bottiglia del vino. Io. Dedicata agli altri meno. Eccolo qua. Guardate che colore profondo. Questo è un rosso rubino veramente profondo. Intenso. Intensi e variegati. E poi. Anche speziato diciamo no? Sì. Il colore eh ho detto un bel rosso rubino. Vedete per chi si riesce. Se riuscite a vedere gli archetti. Perdonatemi adesso prendo un po' di carta e lo metto dietro. Per chi riesce a vedere gli archetti si vede insomma sono archetti molto 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 definiti molto stretti e scendono molto lentamente perché gli piace fare le degustazioni dei vini quelle tecniche no? Non so se si riesce a vedere ma eh vi assicuro che pesa anche nel senso vero della parola cioè nel senso pesa nel bicchiere. Ma anche i profumi i profumi so belli. I profumi sono eh intensi ma sono complessi. Speziati sicuramente una una bella frutta matura una confettura ma in realtà quello che viene subito al naso è l'eterio cioè quindi perché ricordiamo quanto fa questo vino di alcol questo quindici gradi anche anche forse eh perché forse anche qualcosina in più quindi i profumi eteri anche anche di smalto no? Si sente l'alto. Anche un buese vanigliato diciamo. Sì 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 sicuramente legno, valiglia e comunque le spezie come dicevi te e anche erba aromatiche. Quello che poi io l'ho sentito l'altra volta quando ho fatto gli avvinamenti per il libro in bocca è potente ha un tannino che entra pulisce la bocca la prende tutta quanta le guance la lingua le gengie eccetera dopodiché pulisce la bocca e va via al tannino. Rimane questo piacevole retro gusto amarognolo sempre di spezie e di erba aromatiche e poi non bisogna se posso dare un consiglio se mi permetti non bisogna avere fretta di berlo questo vino. No beh diciamo che è anche un vino da meditazione. Ma sicuramente io l'ho aperto una ventina di minuti fa il calice io uso questo la degustazione di Sonove in realtà non va bene cioè nel senso serve un calice più ampio serve un pallone se è possibile e è un vino insomma che va bevuto piano piano e ti richiede l'abbinamento cioè da solo lo puoi bere ma dopo un pochetto lo senti perché l'alcol lo percepisci bene lo senti allo stomaco a parte è quasi ora di cena quindi tra un po' andiamo a cenare quindi lo stomaco è abbastanza eh abbastanza vuoto ti stimola sicuramente la salivazione ti stimola questa voglia di mangiare quindi devi assolutamente con questo vino mangiare qualche cosa sì lo sente lo cerca lo chiede beh poi diciamo una bella bocca una bella bocca di cioccolato una bella bocca di confettura tamarene una bella bocca di cannella eh di di rosmarino salvia cioè e anche della frutta secca cioè c'ha bisogno bisogno di tempo si sente che è un vino giovane è un vino che ha una bella acidità un bel tannino non avete ancora fatto esperimenti hai detto quando è che è uscita la prima annata? Beh no è la prima annata è uscita l'anno scorso a gennaio ecco questo è un vino che a me farebbe piacere mettito nella tua agenda mettito nella tua agenda di assaggiarlo tra cinque anni dici sì quattro cinque anni lo assaggerei per cioè in realtà sarebbe da assaggiare tutti gli anni in realtà per vedere proprio l'evoluzione lo farai con l'enologo Roberto sì 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 immagino che lo farai comunque credo che questo è un vino in questo momento che è pronto cioè nel senso non è non è un vino che ha raggiunto la massima ascesa no questo c'ha bisogno ancora di stare in bottiglia di stare ancora un po' di tempo perché ancora scalpita no quindi c'è bisogno di arrotondare questi sapori questo tannino che che è vero entra colpisce e poi va via ma a me farebbe piacere che rimanesse un po' di più cioè nel senso si ingentilisca un pochino capito cioè che mi prenda un pochino più la bocca che mi accompagni verso un piatto di 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 pasta ragù magari di tagliatelle o della pasta comunque fatta in casa con un bel oppure un bel filetto una bella bistecca una bella bistecca questa è una fiorentina la tiene alla grandissima oppure delle costolette di migliare fatta alla brace facciamo l'abbinamento no con la nostra chianina il nostro ok giustamente bravo poi con la chianina giustamente però c'ha bisogno di di tempo ancora un pochino di tempo sì un pochino di più e però a me è piaciuto tanto cioè da quando l'ho assaggiato mi è piaciuto moltissimo e ridico ancora che mi piace moltissimo bene sono contento è un gran bel vino complimenti e metti nella tua agenda quando vai a fare l'assaggio con roberto che magari tra un paio d'anni vorrei assaggiare e sentire questa annata duemila tanto lasciamo come ogni anno le riserve storiche e vediamo che evoluzione fa sicuramente è un vino che potrebbe dare delle sorprese nel tempo assolutamente ne siamo convinte abbiamo avuto anche il riscontro insomma essendo ancora visto come un anno che è in bottiglia quindi poi a me al cento per cento non è manco facilissimo quindi complimenti agli enologi senti allora continuiamo una un'altra domanda ti volevo fare progetti futuri che cosa avete in serbo per noi in ballo cosa avete per quanto riguarda la nostra gamma di vini sì e non solo io mi ricordo volevi fare una sala degustazione tra l'altro sì adesso metteremo a posto il cassodale nostro lo strutteremo per fare anche una sala degustazione più ampia una vinificazione e in servo ci sarebbe sempre con il gamè di fare magari anche una bollicina o un rosato anche magari di fare un altro rosso meno strutturato ho capito vediamo un po una cosa un po più progressiva diciamo piano 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 senza fretta senti un'ultima domanda e chiudiamo questa questa chiacchierata e dacci un buon motivo per acquistare i vini dell'agricola casaioli perché sono giovani tu o loro io io sono giovani quindi no vabbè diciamo che noi facciamo una piccola produzione diciamo la produzione di nicchia dove puntiamo alla qualità e vini del territorio e niente quindi sarei contento di che la gente venisse a degustare magari in azienda i nostri prodotti per poi decidere se comprare o no ma sicuramente rimarranno magari entusiasti dei nostri prodotti assoluto io io penso proprio di sì io aggiungerei sei giovane sei rampante quindi sicuramente i tuoi vini rispecchiano insomma la gioventù che hai tu e la voglia di di fare quindi io penso di trovare io lo trovate ma insomma penso di trovare nei tuoi vini quello che che sei tu che è l'azienda tua insomma quindi anche sarai pieno di sorprese e pieno di novità quindi io direi di seguire a Giacomo Casaioli e di seguire anche l'azienda agraria Casaioli perché sicuramente nel futuro ci riserviranno delle bellissime sorprese gustose sorprese anzi direi di più va bene io Giacomo ti ringrazio finisco con un bel scopo di Fontinius e ti auguro una buona serata grazie a tutti voi buona serata anche a te e a tutti quanti grazie Giacomo grazie io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento domani sera alle 18 e 30 perché dall'Umbria facciamo un salto e andiamo in Piemonte nel territorio del Gavi di OCG ad intervistare un altro eh prestigioso eh rappresentante della nostra enologia nazionale grazie a tutti e come dico sempre tanta salute e felicità ciao vederti 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 Grazie a tutti.